. Uomini e donne, ecco chi ha scelto Paolo Crivellin, svelato già il nome. Uomini e donne anticipazioni, arriva la scelta finale di Paolo Crivellin, ecco chi è. Cresce lattesa per quella che sarà la scelta finale di Paolo Crivellin, video, che avremo modo di vedere in onda oggi pomeriggio 5 febbraio su Canale 5. . Le anticipazioni ufficiali sul dating show di Maria De Filippi rivelano che dopo numerosi rivii è stata finalmente comunicata la data ufficiale di messa in onda della fatidica puntata incentrata sulla scelta del tronista turinese che ha fatto tanto discutere e chiacchierare nel corso di queste settimane di messa in onda del trono classico. . Spoiler Uomini e donne, oggi la scelta di Paolo. Nel dettaglio le anticipazioni su edi di oggi rivelano che la scelta finale di Cancelletto Paolo Crivellin è avvenuta in una circostanza decisamente inedita. . Sì, perché la redazione del dating show di Maria De Filippi ha deciso di sperimentare un nuovo tipo di modalità di scelta e questa volta il tronista non ha rivelato il nome della corteggiatrice favorita allinterno dello studio bensì in esterna. La produzione, infatti, ha dato la possibilità a Paolo Crivellin di fare delle esterne speciali con le due pretendenti Angela e Marianna, che ha avuto modo di conoscere meglio per due giorni allinterno di una villa dove ha passato del tempo con loro. . Ciò che è accaduto allinterno della villa di Ued sarà trasmesso oggi pomeriggio in tv. . Le prime anticipazioni rivelano che Paolo ha mostrato una certa diffidenza nei confronti di Angela, che tuttavia potrebbe essere il campanello ufficiale che testimonierebbe il fatto che alla fine la scelta finale è ricaduta proprio su di lei. . Possiamo dire, infatti, che questa è un po' la tecnica dei tronisti, comportarsi da stron. Nei confronti della ragazza da scegliere e soprattutto nei momenti finali della conoscenza ad un passo dalla registrazione finale. Ecco qual è la scelta di Paolo Crivellin. . E poi ancora dall'ultima registrazione di Ued Trono Classico di ieri, sarebbe emerso chiaramente che alla fine Paolo abbia scelto proprio la bella Angela. . . . Insomma, una scelta che promette grandi colpi di scena e soprattutto che mette fine ad uno dei capitoli più lunghi della storia di Cancelletto Uomini e Donne, quello riguardante il percorso di Paolo Crivellin. Cancelletto Uomini e Donne Anticipazioni. . 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 Grazie a tutti